I feriti Arwi e Jelly per quanto riguarda le persone ferite. Stiamo valutando il discorso di Arwi. Se fare un conservatore o un'operazione. Entro il fine settimana decidiamo. Jelly non sarà lì per un periodo. Valutiamo la settimana per settimana. Prendi la condizione strordaria che aveva. Non sono un dottore ma posso dire che se Arwi opererà sarà fuori 5060 giorni. Mentre Jelly è un buon infortunio. Quindi non so che dipende sempre molto dal calciatore il fatturato delle gare successive non sarò. Molto influenzato in questa gara perché giochiamo dopo 5 giorni. L'Irola ieri ha avuto un po' di disagio. Cerchiamo di non rischiare domani perché le altre gare sono più vicine. Con Fiorentina e Roma dovrò stare molto attento perché loro sono vicini. Caio Jorge was to the way. Ma poi c'è stata un infortunio di Jelly Bresciani e mazzzithi c'è sempre un tempo per tutto. Pellegrini. Lorenzo. Che era con me a Sassuolo. Ha giocato la prima volta a novembre. Ci vuole sempre tempo. Forse Brescianini gioca domani. Dipende. Lavoro molto per far crescere i giocatori. Tei lo fanno formazione anche basata sulle caratteristiche. Mazzitelli? Sono molto orgoglioso di lui. Lavora sempre con la testa giù. Come capitano. È uno di quelli che devono essere cacciati dal campo, altrimenti è sempre lì per lavorare cavernazze. Le condizioni è andato via due settimane per giocare nella squadra nazionale. Dove ha giocato? È bene in condizioni fisiche. È entrato nelle prime gare. È un'opzione. Fa anche parte del percorso di crescita. Talento calciatore ma chi deve crescere. Ha funziona meglio di quando è arrivato.